Signora, signora, si fermi per favore. Cosa vuole? Lo sa che sta per tornare una nuova, e dico, una nuova serie, il Bello delle Donne. Finalmente una bella notizia. Riapre il salone di bellezza più famoso del piccolo schermo. La storica fiction cult, targata Mediaset il Bello delle Donne, ritorna dopo molti anni e con molti cambiamenti. Otto puntate che si svolgono a Roma e hanno nuovi protagonisti e protagoniste rispetto alle stagioni precedenti, come ad esempio Manuela Arcuri. Il 2017 parte col botto di Manuela Arcuri con il Bello delle Donne. Senti, ma che ruolo interpreti? Io sono Jessica Lolli e sono una ragazza romana, di Borgata, che ha però un grandissimo cuore. È una persona molto solare, molto determinata. Anzi, inizialmente viene illusa dall'amore, perché lei ancora ci crede nell'amore. Però, nonostante questo, va avanti nella sua strada, perché è convinta, è sicura di se stessa. Riesce a qualizzarsi con le altre donne, le altre protagoniste. E questo dà una grandissima forza a tutte quante noi, perché noi donne, se ci uniamo, se ci unissimo veramente nella vita, tutte quante, sarebbe veramente qualcosa di importante, perché c'è una forza strepitosa. A che fine avrei fatto se non avessi incontrato te? Fregata da Sam e poi da quel ladro di Lorenzo Pucci. L'ora? Tante le new entry che rappresentano le varie sfaccettature dell'altra metà del cielo. Al fianco dell'Arcuri troviamo Anna Galiena, Lina Sastri, Alessandra Martinez e la diva delle dive, Claudia Cardinale. Immancabile in questo sequel, la veterana Giuliana De Sio.